Bene, grazie allora a Giovanna Cannizzaro, Pozzallo continua ad abbellirsi, io sono convinto che è uno dei centri più belli della nostra costa, non perché ci sono stato da giovane per più di 20 anni, però sono convinto che ha tutto quello che serve per essere uno dei centri più importanti. Attenzione, se avesse un paio di alberghi come si deve, ed è questa la grande battaglia, quella che bisognerebbe fare, quando dico a Peppe Cassì il piano regolatore tuo non prevede gli alberghi, ci sono le aree turistiche, ma la gente le vuole a mare, ve li immaginate come dico sempre io nella zona di Raganzino, no Raganzino, all'altra parte a Pozzallo, nella zona del primo, secondo, terzo scivolo, dove purtroppo ci sono migliaia di case costruite abusivamente, poi sanate, non c'è dubbio, ma lì se si potesse trovare lo spazio per un paio di alberghi come il conte di Cabrera, quello che c'è prima del porto a Baganuco, quelli sono alberghi che vanno benissimo, d'estate sono sempre pieni, perché uno che vuole andare a mare è meglio di lì, poi se si trova anche vicino alla città ancora meglio, quindi questo è importante. Un'altra cosa da dire, domani si inaugura il reparto di pediatria a Ragusa, voi sapete tutta la confusione che c'è stata, abbiamo anche fatto di più e quello che mi chiedo è se per ottenere qualche risultato per i cittadini bisogna fare quello che hanno fatto le mamme, bisogna ambiccicare i manifesti, bisogna far venire la RAI, che la RAI con queste cose ci zuppa il pane, ti immagini arriva la collega a queste mamme, il guaio però è che poi in ogni caso è spogliare a Cristo e vestire la Madonna, lo ha detto Comisi, lo ha detto, togliamo l'ambulatorio, dobbiamo prendere qualche medico da qualche altra parte, dobbiamo fargli fare a quelli di Vittoria avanti e indietro con Ragusa, non è che si apre, è un'apertura sofferta, non so se la faranno comunque con questo tempaccio perché per esempio per il tempo è stata rinviata la cerimonia che era stata organizzata a Vittoria per la commemorazione del questore Palatucci che è stato ucciso tanti anni fa e quindi c'era questa cerimonia che poi si faceva anche in prefettura, ma per il mal tempo hanno deciso giustamente, scome era all'aperto la deposizione, hanno deciso di farne a meno, verrà rinviato di qualche giorno. E ora vi lascio con una intervista di Gianni Papa molto interessante perché con l'amico Locascio che è presidente di BC Sicilia, beni culturali di Sicilia, si parla di questo straordinario, eccezionale patrimonio che ha questa terra. E il guaio è che non lo sappiamo far funzionare bene perché il nostro guaio è proprio questo, è sempre ammiscato, arraffazzolato, è sempre una cosa così e invece con una rete fatta come si deve di patrimoni come quelli nostri potremmo vivere solo di turismo e cultura. Gianni Papa, grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti.